C'era sicuramente bisogno di un testo legislativo che andasse ad intervenire nel settore del libro, dell'editoria e promuovere la lettura. Questo testo di legge lo abbiamo predisposto anche perché abbiamo la consapevolezza di come in Italia si legga troppo poco e sappiamo come i ragazzi fra i 6 e i 14 anni leggono se hanno i genitori lettori e questo è un dato che ci dice il 75%. Quel dato del 75% cala al 34% se i genitori non sono lettori. Quindi capiamo bene come ci sia bisogno di incentivare la lettura. La lettura serve alla crescita civile, alla crescita sociale di una comunità e aumenta anche il senso critico perché chi legge è in grado anche non solo di sapere ma anche di avere le risposte, di essere meno aggredibile dal punto di vista anche della comunicazione che oggi attraverso i social è sempre più globale. Quindi una persona che legge aumentando il senso critico è in grado di farsi meglio un'opinione e quindi di dire la sua e di esprimere il proprio pensiero. Quindi con questa proposta di legge si vuole incentivare il libro, si vuole incentivare la lettura, le biblioteche, i festival, i festival importanti che ci sono anche nel territorio della nostra regione. Mi vengono in mente passaggi festival, letteraria ma anche le biblioteche come la Memoteca Montanari di Fano, la Biblioteca San Giovanni, la Biblioteca di Macerata sono luoghi che vivono grazie al libro e alla lettura e sicuramente sono un'opportunità di crescita civile. Quindi questo testo vuole incentivare alla lettura a partire dei giovani, a partire dei bambini come per esempio il progetto Nati per Leggere, che deve essere un'opportunità di crescita culturale e sociale di una comunità. L'aumento del senso critico, l'aumento del sapere è comunque una ricchezza per tutti quanti noi.